In una padella versare un po' di olio e un po' di buro. Su ogni fettina mettere un po' di affettato. Noi abbiamo usato la coppa. Potete usare anche prosciutto crudo. Chiudere con stussicadenti e una fogliolina di salvia. Passare le bistecchine da una parte con la farina. Aggiungere nella padella bella calda. Un po' di pepe e appena un po' di sale. Dopo qualche minuto sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Mettere il coperchio e cuoce per due minuti. Impiatare e questo piatto è pronto. Molto gustoso. Un po' di vite. Grazie.